Ho fatto il liceo scientifico, dopodiché ho fatto un anno di ragazza alla pari in Inghilterra. Sono tornata in Italia, ho fatto una laurea breve in economia e commercio. Sono entrata in Credem come cassiera. Subito è stato molto difficile. Ricordo di notti insonni pensando ai valori da contare. Quello che mi ha spinto a entrare è la moltitudine di situazioni nuove in cui posso crescere e imparare. Ciò che mi stimola in Credem è il contatto con le persone. Sicuramente essere diventata punto di riferimento per clienti, ma non solo, anche in filiale, è qualcosa che dà delle grandissime soddisfazioni. Tra dieci anni mi vedo soddisfatta del mio lavoro come lo sono adesso. Nel percorso ci saranno state mille difficoltà. Tutto quello che c'è in mezzo non vedo l'ora di vedermi. Grazie. Grazie.